Sì, perché prima non ha mai fatto una cosa del genere chiedere la colazione a letto con due uova da quando eravamo all'albergo Sitianus quando faceva finta di star male con la voce da sofferente e faceva il pascià per rendersi interessante con Mrs. Riordan vecchia befana e lui credeva ad essere delle sue grazie e lei non si lasciò un baiocco tutta messa per sé e per l'anima sua spilorcia maledetta aveva paura di tirar fuori quattro soldi per lo spirito d'ardere mi raccontava di tutti i suoi mali aveva la mania di far sempre i soliti discorsi di politica e i terremoti e la fine del mondo divertiamoci prima io ci scampi e liberi tutti se tutte le donne fossero come lei a sputar fuoco contro i costumi da bagno e le scollature che nessuno avrebbe voluto vedere addosso a lei si capisce dico io che era Pia perché nessun uomo si è mai voltato a guardarla spero di non diventare come lei miracolo che non voleva che ci si coprisse la faccia ma certo era una donna accolta e quelle buggerate su Mr. Jordan qua e Mr. Jordan là io dico è stato felice di levarsela di torno e il suo cane che mi odorava la pelliccia e cercava di infilarmi ci tra le sottane specialmente quando eppure questo mi piace in lui così gentile con le vecchie i camerieri e anche i poveri non è orgoglioso di nulla proprio ma non sempre se mai gli capita qualcosa di grave è meglio che vadano all'ospedale dove tutto è pulito ma io dico mi ci vorrebbe un mese per cazzargli l'ho in testa sì e poi ci sarebbe subito un'infermiera tra i piedi e lui ci metterebbe le radici finché non lo buttano fuori una monaca forse come quella della fotografia schifosa che ha che è una monaca come lo sono io sì perché sono così deboli e pianucolosi quando sono malati si vuole una donna per farli guarire se gli sanguina il naso c'è da credere che sia un dramma in piena regola e quell'aria da moribondo scendendo dalla circolare sud quando si era slogata a una caviglia alla festa della corale di monte pan di zucchero il giorno che avevo quel vestito viscistac gli portò i fiori i peggio che avevo trovato appassiti in fondo a paniere cosa non avrebbe fatto per entrare in camera di un uomo con quella voce da zitella cercava di immaginarsi che stesse morendo per amor suo non più mai rivederti benché avesse l'aria più da uomo con la barba un po' lunga a letto papà era lo stesso e poi non mi andava di fasciarlo e dargli pozioni quando si tagliò il dito del piede col rasoio a spuntarsi i calli paura di un avvelenamento del sangue ma ma se fossi io per esempio ad ammalarmi allora vorrei vedere un po' solo che la donna lo nasconde si capisce per non dare tante seccature come loro si ha fatto qualcosa in qualche posto me ne accorgo dall'appetito comunque non è amore se no non mangerebbe per pensare a lei così oh è stata una di quelle nottambule sei davvero laggiù che è stato è quella storia dell'albergo ha inventato un sacco di bugie per nascondere i suoi manegzi è stato a Innes a trattenermi chi ha incontrato ah sì ho incontrato te lo ricordi Menton e chi altri guardiamo un po' quella faccia da bambinone l'ho visto e lui che non era sposato da molto a fare il pollo con una ragazzina al mariorama di polla gli ha voltato le spalle quando lui se la svegnava con l'aria colpevole poco male ma ha avuto la faccia tosta di farmi la corte una volta ben gli sta bocca eutroesistibile e occhi sporgenti di tutti gli imbecilli che ho trovato e lo chiama un procuratore se è che io non posso soffrire i batti vecchi a letto o se non è questo magari qualche puttanella o roba simile la cattata batte la pesca dove o pescata di nascosto se lo conoscessero come lo conosco io eravamo stesi tra i rododendri sul promontorio di how con quel suo vestito di tweed grigio e la paglietta il giorno che gli feci fare la dichiarazione sì prima gli passai in bocca quel pezzetto di biscotti all'anice ed era un anno bisestile come ora sì sedici anni fa dio mio dopo quel bacio così lungo non avevo più fiato sì disse che ero un fior di montagna sì siamo tutti fiori allora un corpo di donna sì è stata una delle poche cose giuste che ha detto in vita sua il sole splende per te oggi sì perciò mi piacque sì perché vini che capiva o almeno sentiva cos'è una donna e io sapevo che me lo sarei rigirato come volevo e gli detti quanto più piacere potevo per portarlo a quel punto finché non mi chiese di dire di sì e io da principio non volevo rispondere guardavo solo in giro il cielo e il mare pensavo a tante cose che lui non sapeva di Mulvey mister Steinhope di Esther e papà e il vecchio capitano Gross e i marinai che giocavano al piattello e alla cavallina e come dicevano loro sul molo e la sentinella davanti alla casa del governatore con quella cosa attorno all'elmetto bianco povero diavolo mezzo arrostito e le ragazze spagnole che ridevano dei loro scialli e quei pettini alti e le aste e la mattina i greci e gli ebrei e gli arabi e il diavolo sa chi altro da tutte le parti d'Europa e Duke Street e il mercato del pollame un gran pigolio davanti alle abiscerone e i poveri ciuchini che inciampavano mezzo addormentati e gli uomini avvolti nei loro mantelli addormentati all'ombra degli scalini e le grandi ruote dei carri e dei tori e il vecchio castello vecchio di mille anni sì e quei bei mori tutti in bianco e turbanti come re che ti chiedevano di mettersi a sedere in quei loro buchi di botteghe e ronda con le vecchie finestre delle posadas fulgi di occhi celava l'inferriata perché il suo amante baciasse le sbarre e le gargot mezza aperte la notte e le nacchere e la notte che perdemmo il battello ad Algesilas il sereno che faceva il suo giro con la sua lampada e oh quel pauroso torrente laggiù in fondo oh e il mare il mare qualche volta cremisi come il fuoco e gli splendidi tramonti e i fichi nei giardini dell'Almeda sì e tutte quelle stradine curiose e le case rose azzurre e gialle e i rosetti e i gelsomini e i gerani e i cactus e cibilterra la ragazza dov'era un fior di montagna sì quando mi misi la rosa nei capelli come facevano le ragazze andaluse o ne porterò una rossa sì e come mi baciò sotto il muro moresco e io pensavo beh lui ne vale un altro e poi gli chiesi con gli occhi di chiedere ancora sì e allora mi chiese se io volevo sì dire di sì il mio fior di montagna e per prima cosa gli misi le brazza intorno sì e me lo tirai addosso in modo che mi potesse sentire il petto tutto profumato sì e il suo cuore batteva come impazzito e sì dissi sì voglio sì sì